Lascio quindi subito la parola a Giulio Calacosce e Francesco Canovai per PyContinuous Integration, un'esperienza di vita. Grazie. Vi siete mai svegliati ricordandovi che non avete eseguito la vostra suite di test, che poi tra l'altro ci mette anche sbariate ore a arrivare fino in fondo, sul vostro ultimo commit? Siete sicuri che i pacchetti che distribuite siano sempre funzionanti? Siete certi che la documentazione pubblicata sia relativa all'ultima versione del codice? Se la vostra risposta a queste domande è sì, o avete una volontà e una memoria di ferro, oppure usate la Continuous Integration. Io sono Giulio Calacosce, sviluppatore per Secondo Quando d'Italia. Io sono Francesco Canovai, DBA Postgres per Secondo Quando d'Italia. E tutti e due abbiamo risposto no alle domande precedenti. E quindi vi parleremo oggi di PyContinuous Integration, oppure semplicemente Continuous Integration, un'esperienza di vita. Ovvero la storia di come noi siamo passati a utilizzare la Continuous Integration. E abbiamo guadagnato sogni tranquilli e un po' di fegato. Quindi se, aspetta, se volete twittare riguardo a questo talk, non si legge, ma Second Quadrant... Liegiamo noi. Continuous Integration, PyCon 7, Testing... E DevOps. Allora, prima una cosa fondamentale. Chiarare a degli esperti di svolgere dei compiti noiosi e ripetitivi, e tuttavia tecnicamente impegnativi, è il metodo più sicuro che esista per garantire un errore umano. Tolto la privazione del sonno e lo stato di brezza. Questa è una realtà, oltre ad essere simpatica. Non ce la siamo inventati noi, ma l'hanno detto loro due, che sono due capoccioni che hanno inventato il concetto di Continuous Integration. Un libro loro, Continuous Delivery, è la Bibbia di tutto quello che andremo a raccontare. A spiegare oggi. Non sono gli ultimi arrivati. Esatto. Ma partiamo dall'inizio. Cos'è quello che vogliamo fare? Quello che vogliamo fare lo spiega il primo principio dell'Agile Manifesto. La nostra più alta priorità è soddisfare il cliente attraverso un rilascio rapido e continuo di software di valore. Quando è che possiamo definire un software come un software di valore? Un software è di valore quando fa quello che promette. Anche è la cosa più semplice, però la deve fare bene. E come possiamo garantire che faccia quello che prometta? Bisogna mettere le promesse effettuate dal software alla prova. Per fare questo si utilizza un sistema che di solito si chiama Test Driven Development. Il principio ha la base che prima trovi un difetto e meno ti costa risolverlo. Questo perché prima lo risolvi, meno ci costruisci sopra e quindi meno devi risfare per poi correggere. Anche questo concetto di base è a opera dei due capuccioni precedentemente citati. Una suite di test è il primo utente del software. Che se ci pensate è anche logico perché un test prende il vostro software e lo testa e quindi lo usa. Quanti di voi hanno una suite di test? Due, tre, eh, eh, eh. Vabbè allora possiamo smettere qui. Cioè nel senso sono già tutto. Sì, anche perché se no il problema è che quando il software con i bug va in produzione poi vi ritrovate a cercare di capire quello che fa e passare notti insonni. Non è bello. E non è assolutamente piacevole. Allora, la Continuous Integration si basa su, diciamo, quattro passaggi. PIM, modifiche ridotte e frequenti. Poi test automatici. Le modifiche ridotte portano integrazioni più semplici. E test automatici hanno una scoperta degli errori più veloce. Il risultato di questa equazione è uno sviluppo più rapido con somma gioia del vostro dipartimento dev. Dall'altra parte c'è un altro concetto che è parallelo, che è quello della Continuous Delivery. Continuous Delivery vuol dire avere un sistema per effettuare automaticamente delle build del vostro software, una suite di test che testi il software così buildato, così creato, quindi non il codice ma proprio il pacchetto che rilasciate e infine eseguire la push del pacchetto in un ambiente che sarà prima un ambiente di staging, poi un ambiente vero e proprio di produzione. In questo modo il vostro software sarà sempre, avrete sempre un pacchetto pronto e testato, disponibile al rilascio. Questo per la gioia di tutto il dipartimento di operazioni, operation. Aspetta, scusami, io ho detto dev, tu hai detto ops, perché operation è ops, quindi devops. Quindi lo stiamo facendo giusto perché, attenzione, abbiamo detto la prima buzzword della giornata. Password del giorno numero uno, devops. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Approvata, perfetto. Andiamo avanti. Noi ci crediamo nella struttura devops, questa cosa è stata fatta tutta insieme. E questa battuta è stata fatta apposta per dare un accento al fatto che comunque ci crediamo è una cosa molto importante. Tutto questo, di cui stiamo parlando adesso, è stato pensato perché ci siamo trovati di fronte alla necessità di testare, rilasciare, panera sempre più veloce, uno dei software che viene creato all'interno di Second Quadrant Italia. Per chi non lo conoscesse, fa un piccolo cappello introduttivo, è Barman, che è un software che si occupa di fare backup e recovery di interi cluster, backup fisici e recovery di interi cluster Postgres. È scritto in Python, ormai siamo arrivati a versione 1.6, quasi 1, ok, quasi 1, ed è il motivo per cui ci siamo trovati a pensare tutto questo. Cosa avevamo all'inizio, prima di partire a pensare la Continuous Integration? Intanto avevamo un controllo di versione. Quindi usavamo Git e Git ci dava la possibilità di avere tutta la storia dello sviluppo e quindi sapere per ogni singola versione, per ogni singolo commit effettuato, avere la possibilità di rintracciare eventuali errori presenti su quella versione installata sull'eventuale cliente e in ogni modo comunque di poter avere uno sviluppo abbastanza agile. Mantenere quindi proprio tutta la storia. Un cliente ha la versione 1.5.4, aspetta, e provo. A seguire, un sistema di build, scusate build, perdonatemi, build. Siamo a fine conferenza. Esatto, è l'emozione. Basato su setup tools, che tramite il pratico comando setuppy.sdist, crea un pacchetto, proprio un tar, che contiene tutta la struttura del programma pronta per la pacchettizzazione. Subito, seguo una ruota, una serie di unit test, test di unità scritti sempre in Python usando PyTest e tramite TOCS che testa tutto il software da Python 2.6 a Python 3.5, facendo vari test e anche poi un test dello stile super potto perché ci teniamo a fare le cose per bene. Poi avevamo e abbiamo un sistema di configuration management. Questo ci garantisce di avere delle macchine sempre identiche su cui effettuare i test. E tutto questo si basa su Vagrant per la gestione delle macchine virtuali e Puppet per il provisioning. E su queste macchine virtuali così create vengono effettuati l'integration test del software. Quindi abbiamo una suite di test RSPEC che esegue più di 1200 test. RSPEC? Che è Ruby? Purtroppo ci tocca dirlo per chiarezza, non è Python, ma stiamo cercando di migrarlo. Io ho iniziato con il Ruby, quindi qui c'è una stellina Python. Di Ruby sono un po' di Ruby. Questa suite di test lancia comandi bash, perché barman viene invocato via shell, sulle varie virtual machine create in precedenza. Avremo il database, avremo lo standby, avremo il server barman. Il tempo di esecuzione della suite di test è un attimo un problema, perché dura 30 minuti. E l'abbiamo visto durare anche di più, c'è stato un momento in cui durava fra 45 minuti e un'ora, dipende dalla macchina. Sì, è stato migliorato un po' di trick, ma 30 minuti quelli sono. Quindi, andiamo a vedere qual era tutto il nostro flusso per il nostro sviluppo di barman, prima di passare alla continuous integration. Abbiamo visto che già avevamo qualcosa a disposizione che poteva essere parte della continuous integration, ma prima lo utilizzavamo così. male, ok, va bene. Prima di tutto, allora, come partiva un ciclo di sviluppo per l'aggiunta della nuova feature? Intanto a qualcuno doveva venire un'idea. Ok, facciamo feature nuova numero uno. Quindi, una volta definita l'idea della nuova feature da aggiungere, si passa alla fase di analisi. Fase di analisi svolta da almeno due persone, che si fa prima di iniziare a programmare, e questa è una cosa fondamentale. Poi, ovviamente, in corso d'opera i cambiamenti si fanno, però, comunque, due persone si mettono lì e decidono come va fatta una cosa. Anche perché se ti faccio i test senza avere un'analisi è un dramma. Esatto, infatti. A seguire, fase di sviluppo. Come abbiamo già detto prima, alla base di tutto lo sviluppo c'è Git, che ci dà tutte le storie, e noi lo usiamo diviso in due più N branch, ovvero Master, che è quello che poi verrà dichiarato pubblico e messo su GitHub. MagicQ, che è una coda di commit che sono in attesa di essere resi pubblici e aggiunti su Master, e che di solito accolgono i commit subito dopo la fase di test. E una feature branch, ovvero quando uno o più persone cominciano a sviluppare un branch, viene creato un branch che di solito è identificato dal nome dev qualcosa, il numero di ticket di solito, sul quale viene portato avanti tutto lo sviluppo finché non viene terminato. Nel momento in cui parte lo sviluppo, in parallelo partono tre attività. Lo sviluppo della feature con testi di unità ad opera di chi li scrive, perché giustamente se scrive il codice si è il più indicato a scrivere testi di unità. la scrittura dei testi di integrazione ad opera del dipartimento operazioni e la scrittura della documentazione ad opera di qualcuno. Di chi è libero? Sì, di chi passa per libero. Preferibilmente di chi ha scritto il codice. Sì, no, boh, non è detto. Comunque diciamo che è ad opera di qualcuno. Diciamo che dovrebbe farla chi ha scritto il codice. Esatto, dai. A questo punto esegui i tuoi unit test, tutto va bene. Esegui i tuoi test di integrazione mettendoci quella mezz'oretta, tutto va bene. Io che sono il dev dico ho fatto e quindi sono ottimista nel poter dire che ho finito di programmare la feature. Io che vado a fare testing non credo al suo ottimismo. Perché sei una brutta persona. Quindi, revisione del codice scritto, dopodiché la revisione della documentazione, perché deve essere in pari con il codice, chiaramente. Esatto, è uno dei problemi di te prima. E io non sono sicuro che prima sia stata scritta a modo. Esatto. Dopodiché, riesecuzione dei test. Anche qui non puoi fidarti ciecamente che lo sviluppatore abbia eseguito i test. Potrebbe aver saltato un pezzo della procedura, potrebbe essere scordato. venerdì alle sei ed è scappato dall'ufficio. Potrebbe essere successo qualunque cosa. Quindi io non mi fido a prescindere, rieseguo i test. Infine, se tutto è andato bene, push, submerge queue. Quindi vuol dire che sono abbastanza fiducioso che tutto ciò funzioni. Ottimista. Viva l'ottimismo. Però facciamo in modo che lo guardi una terza persona. Quindi fase di accettazione, un'altra volta, revisione del codice. In questo caso, da un lato un po' più utente, quindi con una sfumatura di differenze, non vai a guardare precisamente quello che il codice fa, o meglio, come è scritto, ma più quello che il codice fa. Esatto. Revisione della documentazione. E quella deve essere chiara dal punto di vista dell'utente. Chiaramente. Ri-ri-esecuzione dei test. Per cui potrebbe comunque essere la prima volta. E infine, tutto funziona. Tre persone l'hanno visto. Siamo ragionevolmente sicuri che stiamo facendo qualcosa di sensato. Esatto. Quindi, push su master. La feature è pubblica. Esatto. Fine. Applausi. Va. No, va bene. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati in fondo, però non è che... È un parto arrivare in fondo in questa maniera. Infatti, ci sono dei problemi correlati a tutto questo. Intanto, dopo tempo speso a fare i test. Perché se io ci metto mezz'ora, lui ci mette mezz'ora. Chi fa? Ti ci mette mezz'ora. È un'ora e mezzo che va via. Solamente a guardare test... Test che vanno bene. Che vanno bene. Che vanno male. Perché quando va male... Eh, vabbè. Ok. Che sono sempre gli stessi test. Ci può essere l'aggiunta dei test di integrazione della nuova feature. Ma di base restano sempre gli stessi. Le macchine e gli sviluppatori sono sovraccariche. Perché quando partono 5 macchine virtuali Vagrant sulla vostra macchina, anche se avete 16 giga di RAM, a un certo punto avete dei problemi a tenere aperto anche solo il browser. Le macchine virtuali che possono impazzire. E ne abbiamo viste succedere tutti i colori. C'è un campionario di ristorie riguardo alle macchine virtuali impazzite. Dal più semplice, chi le testa ha una versione differente, da chi ha sviluppato ha problemi di rete interne alle macchine. E porta a situazioni belle. Ma sulla mia macchina non funzionano? Ma usiamo le macchine virtuali apposta per evitare questo? Quindi che cosa succede? Ecco, appunto. E poi gli errori umani. E poi ho provato una feature per Postgres 9.2 su una 9.4. E non va bene. Ho eseguito i test sul branch sbagliato. Esatto. Mezz'ora buttata via gratis. Insomma, tante perdite di tempo. Quindi, in Second Quadrant, durante una riunione per stabilire il futuro di Barman e cosa fare, quali magari nuove feature includere, in verità quello che abbiamo deciso è passiamo alla continuous integration. All'unanimità, oserei dire. All'unanimità. Tutti d'accordo che era il concetto più necessario per la nostra sanità mentale. Ma di tutti. La nostra soluzione a tutto questo è stato facciamo outsourcing dei test. Ovvero, invece che delegare lo sviluppatore, il tester e l'uomo che fa UAT di dover ricordarsi di fare il test, lo deleghiamo a una macchina. Quindi la risposta a tutto questo è stato prendere uno dei software più conosciuti che c'è, non in commercio perché open source, sul mercato, dai, sul mercato, che è Jenkins, che ha come scopo quello di fare il server di continuous integration. Quindi lui prende e fa cose. Quindi, come è Jenkins? Innanzitutto è un'applicazione web scritta in Java, siamo già... Due tecnologie, tre tecnologie. Java, Ruby, Python, Bash. Bash, sono quattro tecnologie. Puppet, cinque. Cinque, vai. Dai. Licenza Meet, quindi software libero e ha un visibilio di plug-in per fare qualunque cosa. Quindi tutto questo lo rende estremamente flessibile. Come funziona Jenkins? Jenkins esegue dei job. È di una banalità infinita, ma che cos'è un job? Se potete farci uno script, è un job. Quindi è molto vago come concetto perché un job può essere qualsiasi cosa. E probabilmente esiste già un plug-in che lo fa... ma non ha documentazione. Ma non ha documentazione. E non stiamo scherzando, ci sono dei plug-in che hanno pagine bianche. C'è il nome, fine. Buona fortuna. C'è da dire che sono abbastanza facili da usare generalmente. Sì. Però a volte è così banale, a volte c'è da guardare un po' di codice. Ci siamo trovati a leggere il codice in Java. Pianto è un lamento. Va bene. Comunque, vediamo a questo punto come in second quadrant abbiamo iniziato a utilizzare Jenkins. Per prima cosa abbiamo tirato su un server Jenkins utilizzando Puppet per gestirlo. Quindi Puppet tiene la configurazione del server, non la configurazione di Jenkins, di tutta la macchina. Fai il monitoraggio, quindi controlla che Jenkins sia su, che Apache sia su, disco, rete, tutto quello che uno vuole monitorare. E infine esegue il backup degli artefatti prodotti da Jenkins, quindi pacchetti, log. Quello che possiamo salvare lo salviamo. Nonché la configurazione di Jenkins stessa. Esatto. Quindi Jenkins ha adesso un workflow diviso appunto in job. E alla base e l'insieme che contiene tutti i job è la pipeline. La pipeline è un'entità mitologica che è in cui ogni passo è un job di Jenkins. Ogni job può usare il risultato prodotto da tutti i passi precedenti. Quindi vediamo come, esatto, vediamo come. Questa è la pipeline in tutta la sua magnificenza. E vediamo quindi come un commit di Git scatena tutta la procedura. Noi abbiamo un hook all'interno del nostro Git che quando viene fatto un commit su qualsiasi branch, anche quello di sviluppo, avverte Jenkins che qualcosa è cambiato. Quindi Jenkins fa un pool di Git e fa partire la build delle modifiche che sono state fatte. Quindi con l'SDist che abbiamo visto prima di setup.py crea un pacchetto, un tag, che contiene i sorgenti di barman e li rende disponibili a tutti i job che lo seguono. Quindi il build è la radice dell'albero di tutti i job. e tutti i job che stanno dopo si dice che stanno in downstream. Ora in questo caso non andiamo in su, però comunque stanno dopo il job di build. In parallelo partono due job. Uno che si occupa di creare la documentazione tramite, noi abbiamo la documentazione scritta in Macdown, quindi viene compilata e viene creato un pdf e le pagine html che poi rappresentano la documentazione che diventerà pubblica. Tutta quella Sphinx. Esatto. Ah, è vero, c'è anche Sphinx, è vero. E poi tutti i test di unità di cui ricevamo prima tramite TOX con un paio di 2.6, 2.7, 3.3, 3.4, 3.5 e FLECOTTO. Questo è FLECOTTO che si occupa di fare i controlli di pepe e di stile. Di solito è quello che falisce più spesso perché abbiamo gli import ordinati male, gli spazi di troppo. Va bene. Una cosa importante, questi due job vanno in parallelo. quindi è importante che il job che segue dopo parta solo quando tutti e due i lavori in parallelo sono terminati. Questa è una struttura che si chiama Diamond e tramite un trigger viene il job successivo integrato solamente quando tutti e due sono arrivati in fondo. A seguire questi due si fa nel dominio dell'RSpec. A seguire partono gli integration test. Quindi l'integration test detto prima è il Respec. Siccome gli integration test continuano a impiegare mezz'ora, venti minuti, sono onerosi. Sono onerosi. Noi non vogliamo farli per ogni commit. Noi questi li eseguiamo solo quando i commit sono quelli importanti. I commit importanti sono quelli su master, quelli pubblici, e quelli su mercue. Perché la coda quindi va testato. Perché sì, perché se no lo metti pubblico comunque lo rischi. Quindi, finiscono gli integration test e anche qui in parallelo iniziamo a creare i nostri pacchetti. Quindi, c'è la costruzione per dei pacchetti RPM. Noi creiamo, utilizziamo mock su una macchina virtuale virtual box per creare i pacchetti redact 5, 6 e 7 e in parallelo la costruzione dei pacchetti deb utilizzando cowbuilder, in questo caso non c'è virtual box perché il server Jenkins è su un ubuntu, per la trusty, la precise, Debian, Jesse e Weezy. se tutte e due le architettiziazioni, si è un altro diamond, è un plugin di Jenkins fra l'altro che si chiama Join che permette di fare queste cose, se tutte e due vengono superate, allora vengono avviati gli smoke test, sia chiaro, tutta questa parte prima non c'era, noi ci fermavamo all'integration test, la possibilità di automatizzare tutto ci ha permesso di aggiungere queste cose, quindi come funzionano gli smoke test? Tutti i pacchetti creati vengono testati su tutte le versioni di Postgres su cui possono girare, questo lo facciamo utilizzando in questo caso Docker. Aspetta, scusa una domanda, hai detto Docker? Sì, aspetta una cosa per te, sai che cos'è questo? Hai detto la seconda buzzword del giorno, visto che Docker e DevOps sono le parole più usate all'interno di questa conferenza ci sembrava giusto sottolinearlo e poi altra pausa per fare presente comunque usare Docker nel nostro sistema di sviluppo ci ha dato la possibilità di creare tantissime cose tramite microservizi tipo tantissimi pacchetti in contemporane e testarli. Esatto, perché il test viene eseguito su tutte queste versioni qui. Questa è una matrice di Jenkins in questo caso tutta verde perché tutto è andato a buon fine però vi fa capire quanti pacchetti creiamo in contemporanea. Ciò che è grigio è perché non esiste quella versione di Postgres su quella non è supportata su quella versione di Linux non è pannoccio pacchetto quindi e tutto questo solo per Ubuntu questi poi abbiamo anche quelli per le ratte esatto no, questo c'è nel Centos ah, scusa, non l'avevo vista perdoni ok e tutto questo con Docker si fa molto molto rapidamente quindi possiamo farlo perché è tutto automatizzato andiamo avanti dopo questa voglia di data dobbiamo farlo era doveroso far presente la seconda buzzword era doveroso a seguire vi è infatti un upload della documentazione su docspgbarman.org tramite FTP ennesima tecnologia che si aggiunge al nostro stack di tecnologie in uso un po' plug-in e un upload dei pacchetti che abbiamo creato perché non è che ce li teniamo lì o li abbiamo fatti no li mettiamo anche online a questo punto fine andiamo finito applausi no va bene applausi te lo faccio ce lo facciamo da soli potremmo suonare una campanella tempo totale 50 minuti dalla partenza del commit al fine che rispetto a già solo l'ora e mezza dell'esecuzione dei test di tre persone è un guadagno di tempo incredibile facendo molti più test facendo molti più test facendo i pacchetti esatto e avendo tutto pronto già online quindi sì perché nel momento in cui la pipeline arriva in fondo i pacchetti anche solamente quelli di sviluppo sono in un'area privata ma pronti per noi per essere usati per i nostri test questa è l'interfaccia cioè la domanda che vi dovete porre è che faccia Jenkins a questo punto e questa è l'interfaccia di Jenkins quello che si può vedere è che è una semplice pagina web fondamentalmente di interfaccia da qui c'è il riassunto di quello che sta accadendo ovvero un pallino che in questo caso è verde attenzione perché di default non è verde quando va tutto bene è blu qui c'è un plug in per vedere il pallino verde hanno mai visto un semaforo esatto il pallino verde che può essere verde giallo o rosso che indica lo stato di tutto a posto instabile rotto poi abbiamo il weather che è ovvero il sole che splende quando va tutto bene ovvero gli ultimi 5 test eseguiti job eseguiti nella storia sono sempre andati a buon fine e poi c'è vari livelli di nuvolette vedete lì un po' di nuvole ha il nuvolone ok che ti dicono che qualcosa è fallito nel mezzo negli ultimi 5 test quando è peggio c'è il temporale esatto però quella è una palla rossa di solito cioè vuol dire che se stanno andando malissimo quindi magari qualcuno deve allertarsi e fare qualcosa a seguire c'è il nome del job l'ultima volta che ha fatto successo l'ultima volta che ha fallito e la build non ha mai fallito in questo caso ed è durato è l'ultima volta quanto è durato di tempo volendo in fondo per comodità la possibilità di rilanciare i job e un po' di punti dolenti esatto c'è il puntatore tra l'altro c'è la possibilità di riavviare manualmente uno o qualsiasi dei job e scatenare poi tutto ciò che c'è da lui in downstream alla fine di tutto questo la build è abbiamo l'approvazione di Chuck Norris sul serio? no sul serio abbiamo sul serio c'è un plugin per cui Chuck Norris ci approva e ci lascia le sue impressioni al riguardo e in questo caso non ha bisogno di un debugger semplicemente il codice confessa i suoi peccati ma anche un'altra cosa oltre a farvi vedere Chuck Norris la parte più interessante in questo caso il progetto è la build possiamo vedere che la build crea i nostri targizeta che poi sono quelli che verranno utilizzati dai job in downstream e crea un file di proprietà che sarà utilizzato dai job in downstream per leggere variabili scambiarsi variabili numeri di versioni e compagnia bella l'impatto su tutto questo a parte un paio di calci di Chuck Norris è importante sì perché questo ha semplificato notevolmente tutto il nostro ciclo di sviluppo perché perché adesso noi chiunque può essere sicuro che quello prima abbia lanciato i test perché sono stati lanciati in automatico da Jenkins e Jenkins ne tiene traccia non dobbiamo rieseguire tre volte i test basta una volta su una macchina che nemmeno blocca la tua e questo permette di avere meno noia e meno frustrazione quindi un programmatore felice è un programmatore che fa meno errori e che dorme di più e che dorme di più dall'altra parte i nostri pacchetti sono sempre pronti per essere messi in produzione perché ogni commit che ha passato i test ha generato un pacchetto in questo modo una patch per barman può essere distribuita un'ora dopo che la patch è stata scritta un pacchetto può essere distribuito un'ora dopo che è stata scritta la patch questo noi facciamo supporto ci fa molto molto comodo i tempi di release si sono ridotti ma i release a questo punto rilascio completo del software sono ridotti da due o tre giorni a un paio di ore perché comunque dobbiamo mettere tutte le mail di rilascio di release note mandare le mail sulle mailing list giuste avvertire chi di dovere quindi un paio di ore ci passano sempre mettiamolo così in una mattinata tutto è fatto contro i due o tre giorni che ci volevano prima tempo c'era appunto tutta la creazione del pacchetto a mano manuale deb rpm rpm controllo che il pacchetto fosse buono installandolo sulle macchine tre giorni esatto a questo punto non possiamo che citare la nostra Sternano sta felicità citando la frase del commentatore dei mondiali nel 2006 dopo la vittoria dell'Italia cioè abbracciamoci forte vogliamoci bene abbiamo vinto tutti e proprio in questo caso abbiamo vinto tutti sia i dev che i ops che i clienti che gli utenti tutti ogni nuovo progetto prevede l'uso di Jenkins noi siamo rimasti estremamente soddisfatti da questa metodologia e da tutti i benefici che ci ha portato quindi tutti i grandi sviluppi successivi sono stati fatti con Jenkins infatti se avete notato nella slide di prima già si iniziano a vedere nuove pipeline per i nuovi progetti in corso infatti il primo pensiero quando viene detto facciamo un nuovo progetto è ok dobbiamo creare il sottoprogetto Jenkins e una serie di test da farli fare ma vediamo dove vogliamo dove andiamo a parare cosa vogliamo fare perché non è finito allora innanzitutto Jenkins ha un problema è Java e a Java piace l'XML e l'XML è questo rendo elegibile quindi noi non andiamo mai a toccare queste cose qui utilizziamo l'interfaccia web e questo comporta che la configurazione ce la dobbiamo tenere all'interno della wiki con qualcuno che scrive a mano tutti i singoli passaggi fatti per andare a configurare il job non è bello e non è bello mantenere questa cosa qui anche perché quando fai la modifica al volo poi ci metti mezz'ora per dover riportare tutto all'interno della wiki e insomma ti passa ecco come potete notare attivare Chuck Norris è fondamentale per la corretta esecuzione di tutti i test c'è scritto proprio nella wiki quindi è vero quindi vogliamo utilizzare Jenkins Job Builder che permette di utilizzare uno YAML e dallo YAML costruire la definizione del del job questo ci permette di tenere la configurazione all'interno di Puppet e di versionarla all'interno della nostra architettura ora questo non è la nostra configurazione ma è un esempio di qualcun altro perché noi non lo abbiamo però è una sintassi un po' più pulita per descrivere quello che uno vuole fare poi vogliamo iniziare a parallelizzare l'integration test perché perché ora sono sequenziali partono uno dopo l'altro durano 30 minuti e è compito del programmatore fare sì che il test lasci l'ambiente pulito per il test successivo e questo è un'altra causa di possibili errori quindi vogliamo spostare l'integration test su macchine docker aspetta detto docker va bene l'abbiamo già fatta vai 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 garantendo quindi l'indipendenza di test ogni container docker fa il suo compito e possiamo eseguirli in parallelo perché la macchina ha 8 core e inoltre possiamo andare a scalare utilizzando gli slave di jenkins a cui delegare job e poi vogliamo implementare un sistema di promozione della build ovvero poter ricercare nella storia dell'esecuzione di jenkins una build è stata fatta e dire ok test è stata promossa quindi dargli il pagellino e dire adesso puoi diventare una release ok quindi mettere in moto in maniera automatica tutto il meccanismo di release che magari automaticamente crea un tag su github o che cambia la versione insomma una serie di automatismi che di solito si mettono ancora vengono fatti a mano e quello dove vogliamo arrivare fondamentalmente è devo solamente scrivere l'email dopo aver detto parti e quindi procedura di release automatica e fare tutto con un click poi c'è il deploy automatico è il concetto di continuous deployment come si spiegava prima il pacchetto prodotto noi ce lo vogliamo mettere immediatamente in produzione e poi in produzione vogliamo usarlo noi perché come dice il concetto di dogfooding quello che produci lo devi anche usare quindi ti mangi il tuo cibo per cani mi mangio il mio cibo per cani allora andando verso la conclusione è evidente dopo aver mostrato tutti i passaggi che abbiamo fatto che il nostro sistema di continuous integration è nato da un bisogno molto forte al di là del bisogno forte di ore di sonno anche un bisogno forte di tranquillità perché il nostro scopo è quello di dare del codice di qualità questo dovrebbe essere lo scopo di chiunque noi proprio ce ne fregiamo di questa cosa dare la qualità del codice più alta quindi abbiamo dovuto trovare il modo di essere sempre avanti e di avere sempre il numero maggiore di test in esecuzione e per poter garantire una certezza quando un commit un singolo commit è arrivato in fondo alla pipeline e ha fatto 1300 1200 codici test di integrazione e poi quanti sono 200 300 test di unità che fanno un coverage globale dell'87% di tutto il codice di barman abbiamo comunque una ragionevole certezza del fatto che stiamo facendo qualcosa di buono e non è poco perché prima un conto è dirselo da soli è un conto avere delle statistiche che Jenkins ti dà che ti dice sta facendo più bene che male ti dà anche una certa tranquillità quando fa le cose il codice e l'ambiente di continuous integration tutti e due in parallelo sono in continua evoluzione il codice perché essendo in continuous integration cosa fa integra continuamente quindi si evolve e muta in maniera semplice l'ambiente di continuous integration invece si evolve perché ogni tanto qualcuno in ufficio fa questa faccia e dice potremmo aggiungere qualcosa alla pipeline quindi qualcuno si sveglia una mattina ha delle idee che poi vengono messe da parte infatti nel nostro backlog di lavoro c'è una serie di roba da aggiungere a continuous integration e inoltre questa diapositiva vi mostra che questo è il modo più sicuro per rendere popolare una presentazione su internet ovvero i gatti domande? grazie allora io devo paletare la mia ignoranza scusa che mi interrotto prima ci fermavamo era finito allora state tranquilli io avevo semplicemente paura di non capire poi ho fatto una breve questione mentale che magari potrebbe essere sbagliata la mia ignoranza è io so che cos'è un integration test non so che cos'è uno smoke test mea colpa mea colpa mea colpa non lo sapevamo nemmeno noi finché non abbiamo deciso di farlo non lo sapevamo nemmeno noi finché non abbiamo deciso di farlo cioè l'idea era testiamo i nostri pacchetti e abbiamo scoperto che si amava smoke test lo facciamo con un insieme di test minimali perché comunque gli integration test controllano approfonditamente un sacco di cose sono 1200 una volta abbiamo visto che un pacchetto per una versione aveva un errore panico panico quindi a quel punto ho detto va bene allora prima di rilasciarli un'altra volta proviamo qualunque cosa proviamo il pacchetto il pacchetto semplicemente che è una macchina docker viene installato viene fatto un backup chiesta la versione e fatto una recovery non viene fatto niente di che però se qualcosa fosse rotto nella creazione del pacchetto con queste operazioni si vedrebbe ok quindi smoke test è questo molto fumo negli occhi no vabbè l'idea era questa test minimali dobbiamo fare altre? altre domande? c'è una domanda magari può essere anche istruita ma perché tutta la parte di test di controllo parte sia quando viene fatta una commit in merge queue e anche in master probabilmente dalla merge queue al master non dovrebbe esserci nessun cambiamento diciamo che c'è c'è la possibilità che chi fa la revisione del codice introduca una piccola variazione perché altrimenti per cambiare una riga non stai a rimandare tutto allo sviluppatore se io se io che faccio se lui fa una commit e io gli faccio test e mi rendo conto che ha introdotto un bug senza volere non è che gli rimando indietro il ticket se è una cavolata la correggo io se invece qualcosa è più complesso viene fermato il ticket e viene creato un ticket per la collezione quindi comunque in ogni caso li esegui perché sai mai se hai cambiato una riga se magari non hai rotto qualcosa i test di integrazione di unit tra l'altro una cosa che abbiamo detto ci siamo scordati è che fungono anche da test di regressione quindi cioè se ti arrivi in fondo all'esecuzione oltre ai test nuovi anche quelli vecchi vanno tutto bene non hai rotto nulla quindi va tutto bene chiaramente se trovi un bug poi ci metti un test esatto mi rendo conto che dopo tre giorni di conferenza incominci a diventare esageratamente rompi scusate c'è una cosa che di nuovo la dico per ignoranza non ok neppure per me ok il solito di non sapere è una cosa bellissima mi permette di sapere cose nuove la cosa è questa di solito io mi immagino una pipe di sviluppo con i test prima del commit lo sviluppatore lo fa ok di solito di solito lo sviluppatore lo fa infatti ogni singolo passaggio della pipeline può essere invocato a mano a volte me li fa io o lui o chi fa il commit se fa sulla sua macchina a volte addirittura fa un commit e poi dice senti Jenkins mi fai i test su questo branch qui succede dipende quanto è carico il tutto però comunque l'automatizzazione è sempre bene anche se io ho eseguito i test di integrazione è uguale cioè una volta in più perché magari io faccio invece fare tutta la suite di test faccio solo quelle che mi interessano capito è sempre il discorso di fidarsi dello sviluppatore o di chi fa test o di chi fa UAT è bene non fidarsi è certo è che siamo noi i primi a dirlo perché capita a tutti di scordarsi di falli con tutte le buone intenzioni del mondo ti può passare di mente infatti noi abbiamo detto all'inizio o hai una volontà e una memoria di ferro oppure hai qualcuno che pensa per te fai prima siamo programmatori automatizziamo qualunque cosa altre domande grazie sicuri grazie Giulio grazie Francesco grazie a tutti grazie a tutti